A completare il quadro della situazione devo anche dirvi che il Governo nazionale, mentre impegnato a fare propaganda, non ha ancora stabilito le risorse aggiuntive per il trasporto territoriale aggiuntivo per le scuole. Le aziende, quando si diminuisce il numero dei viaggiatori perché si prendono misure di contenimento o quando devono raddoppiare le corse pubbliche e private, hanno un problema di bilancio, il Governo si era impegnato a stabilire risorse aggiuntive. Ad oggi queste risorse aggiuntive non ci sono. Dunque, bella giornata propagandistica, va tutto bene, tutto aperto, per carità solo un 1% o 2%? La realtà concreta è questa.